Io non sono certo un maestro di macrobiotica e non ho inventato proprio niente, quindi riferirò un po' a delle cose semplici che ho imparato da vari maestri. Però ne parlo volentieri, ero molto in dubbio perché tutti noi dobbiamo parlare delle cose che sappiamo, che conosciamo a fondo, però mi sono detto che anche se posso certo dire di conoscere a fondo la filosofia macrobiotica è bene parlarne, credo che sia bene parlarne anche in quest'aula, nel Tempio della Scienza, perché è una visione del mondo che ha delle origini completamente diverse dalle origini della conoscenza scientifica che diamo oggi. ma è una visione del mondo che ci può essere estremamente utile, estremamente utile per guarire, perché tutti noi dobbiamo guarire un po'. Io per guarire il mese prossimo, in aprile, andrò via e andrò in Himalaya, andrò a camminare da solo nelle alte montagne, per ritrovare un po' il senso dell'ordine della natura, dell'equilibrio del mondo, che è molto difficile per noi che viviamo in un mondo così evoluto, così civilizzato, così tecnologico, è molto difficile percepire l'equilibrio della natura, in particolare vivendo in città. In città non ci rendiamo nemmeno conto dell'esistenza dell'equilibrio della natura. E allora me ne entrò in Himalaya, quindi non farò la conferenza del primo mercoledì di aprile, però la riunione la facciamo lo stesso. Abbiamo pensato di... Patrizia ha recuperato questo bellissimo film che si chiama Terra Madre, sapete Olmi, che è un grande capolavoro, l'hanno dato a Milano qualche mese fa, io l'ho visto a Lanteo. E allora proietteremo Terra Madre e vi raccomando di venire a vedere questo film. In fondo si viene a vedere su un film, si paga un euro, perché per proiettarlo dobbiamo pagare una tassa, dobbiamo pagare una tassa di 150 euro, però con il vostro contributo abituale copriremo questa tassa. E poi invece nel mese di maggio, ci sarò di nuovo io, come a giugno, o forse a lui, io qui decideremo. Il tema della conferenza prevista per il mese di maggio riguarda i microbi, i microbi buoni e i microbi cattivi. Ma parleremo soprattutto dei microbi buoni, che i microbi ci aiutano a funzionare bene. I microbi hanno moltissimo a che fare con l'alimentazione, le nostre conferenze riguardano sempre più o meno direttamente l'alimentazione. E allora ci occuperemo dell'alimentazione dei microbi. Come possiamo dare da mangiare ai nostri amici microbi le cose che piacciono a loro. I microbi che vivono nel nostro intestino, per esempio, i microbi che vivono sulle nostre mucose, che vivono sulla nostra pelle. Ci sono miliardi, e miliardi, e miliardi, e miliardi, e miliardi di microbi che vivono in simbiosi con noi. Sono molto discreti, il genere non si manifestano, non danno fastidio. Però a volte quando sono in sofferenza, quando loro sono in sofferenza, soffiamo anche noi. Nell'equilibrio della natura dobbiamo tenere conto anche dei microbi. Ma stasera di nuovo anche un tema di filosofia orientale, voglio mettere sulla proiezione, l'immagine del Tao, dello Yin e dello Yang. Ci facciamo accompagnare nella conferenza da queste immagini. L'ultima volta che sono andato in Himalaya, ho comprato un tanca, un tanca ufficiale, quelli proprio autorizzati dal Dalai Lama, che tengo nella mia camera e ogni tanto ci faccio una meditazione davanti. Questo tanca, al centro del tanca, c'è questa figurina rotonda, dove sono disegnati tre animali. È disegnato il maiale, il gallo e il serpente. Il maiale simboleggia l'ignoranza. Il gallo simboleggia la brama, il desiderio e il serpente, che si erge così, simboleggia l'arroganza. E sono i nostri tre nemici. Sono i nemici che ci tengono nell'inferno. Qui attorno c'è anche l'immagine dell'inferno, l'inferno buddista che viene disegnata. l'ignoranza in particolare. Il peggior tipo di ignoranza è quello che noi siamo sicuri riconoscere con sicurezza. Non c'è niente che noi conosciamo con sicurezza. La presunzione, nell'arroganza di dire che io so. E questo, guardate, riguarda la filosofia orientale, ma è anche la base culturale della nostra filosofia. Questo è Socrate. La brama, sapete, nel buddismo, il grande percorso del Buddha è stato di capire, avere la consapevolezza, chiarirsi nella sua illuminazione, la consapevolezza che esiste la sofferenza e che la causa principale della sofferenza è il desiderio, la franosia e l'avarizia. La filosofia macrobiotica ha una profonda base in questa antica filosofia dell'estremo oriente che poi è stata abbastanza formalizzata anche nelle discipline buddiste. La macrobiotica la possiamo vedere come una... la pratica della macrobiotica la possiamo vedere come una educazione alla guarigione. Perché tutti noi dobbiamo guarire. Dobbiamo guarire il corpo, dobbiamo guarire la mente, dobbiamo guarire lo spirito. E forse, guarire il corpo forse è la cosa più facile. Il nostro corpo è nutrito dal cibo quotidiano, dalle scelte quotidiane che noi facciamo per cibarci. e possiamo fare molto per scegliere del cibo che fa bene, masticarlo bene, non sprecarlo. E' una cosa molto importante non sprecare il cibo. Sapete che nel mondo viene sprecato circa il 30% del cibo che viene prodotto. E nel mondo, sapete, nel nostro mondo, c'è... vivono un milione di persone che sono obese o sediamente sovrappeso. E lo spreco del cibo è molto diverso. Perché nei paesi ricchi lo spreco del cibo è molto finale. Nei ristoranti, nelle case, di ciascuno di noi. Non è tanto nella produzione, nel trasporto. Nei paesi poveri, invece, spesso il cibo è sprecato perché non viene conservato bene, non viene trasportato, non lo si può trasportare perché non ci sono le infrastrutture. Ma lo spreco è un peccato importantissimo. Per cui, dobbiamo chiederci di cosa... di con che cosa nutriamo il nostro corpo. Ma dobbiamo chiederci anche di cosa nutriamo la nostra mente. La nutriamo di idee preconfezionate, di slogan televisivi, la nutriamo di pubblicità, la nutriamo di immagini. Ero l'altro ieri nell'aeroporto di Madrid. E mi ero ripromesso di passare due ore e mezzo ad aspettare l'aeroporto, volevo preparare le diapositive per questa conferenza. E poi mi sono accorto che il computer non funzionava, non era alimentato. E così ho preso una vecchia set di diapositive stasera. E però nell'aeroporto di Madrid è un nuovo, grandissimo aeroporto, è una cosa veramente enorme. C'è una peculiarità, che non ci sono televisioni. Ed è l'unico aeroporto al mondo, non so se è l'unico aeroporto al mondo, io ne ho visitati talmente tanti, no? In aeroporto non sai mai dove nasconderti per non vedere un video. E in questo video, nelle stazioni, adesso avete visto le stazioni italiane, no? In tutte le stazioni ci sono questi video, i continui. Ci sono questi video, io ho, che hanno delle immagini insensate, c'è un po' di pubblicità, ma c'è roba che si muove, no? Come se volessero tenere continuamente occupata la nostra mente di un cibo cattivo. E' molto bello l'aeroporto di Madrid, perché ogni tanto, ogni mezz'ora ho calcolato circa, c'è un altoparlante che dice una cosa. E dice, in questo aeroporto non annunciamo i voli con l'altoparlante. State attenti, no? Ai video che ti danno, ci sono naturalmente i video che ti dicono i voli che devono partire, no? Per cui si sta bene in quel posto, no? Non c'è nessuna voce che ti disturba, non c'è nessuna immagine che ti muove davanti, eh? E puoi stare lì, puoi leggere, puoi riposare, puoi meditare, puoi... Mentre aspetti il tuo aereo. Per cui di cosa nutriamo la nostra mente? Quanto e come mastichiamo il nostro cibo mentale? Il cibo mentale è da masticare. Ci sta da tornare sopra, non dobbiamo prenderlo come tale. Dobbiamo analizzarlo, sminuzzarlo, eh? In modo che lo possiamo digerire senza che ci faccia troppo male. Ma di cosa nutriamo il nostro spirito? Per guarire il nostro spirito. E qui è più difficile ancora, no? Perché noi possiamo anche fare dei nostri esercizi di tenere tranquilla la mente, serena, concentrata, no? Non violentata dalle immagini, dai suoni. Ma per lo spirito, qual è il nutrimento del nostro spirito? Che cosa diamo da mangiare quotidianamente al nostro spirito? Gli diamo dei rancori? O gli diamo... Gli diamo dei rimpianti? Tutti i giorni abbiamo un rimpianto per quella cosa che abbiamo fatto o che non abbiamo fatto? Per delle mancanze? Che abbiamo avuto nei confronti di altri o che altri hanno avuto nei confronti di noi? Tutti i giorni diamo al nostro spirito da mangiare dei rancori dei rancori per i nostri genitori che non hanno fatto le cose come dovevano per i nostri figli che si sono comportati male per il nostro vicino di casa per il nostro direttore e se noi nutriamo il nostro spirito di queste cose sarà molto difficile guarire e la guarigione spirituale questa è una frase che ho preso dal bellissimo libro di di Carlo Guglielmo la guarigione spirituale è il vero scopo di praticare la macrobiotica e al nostro spirito dobbiamo dare da mangiare la gratitudine il senso di gratitudine nei confronti della vita nei confronti di chi ci ha dato la vita nei confronti del benessere che proviamo tutti i giorni questo è un grande insegnamento della macrobiotica ma anche se non siamo malati o anche se pensiamo di non essere malati ricordiamoci di gettare il seme della gratitudine e allora adesso vi propongo di fare un esercizio mettiamoci a sedere con la scheda dritta senza appoggiarla allo schienale e mettiamo bene la schiena e facciamo un paio di respiri profondi un paio di respiri profondi e poi magari aspirando diciamo su 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 adesso possiamo anche chiudere gli occhi e il primo esercizio è quello di lasciare andare il passato pensare per esempio rivivere per esempio un rancore il rancore che voi avete nei confronti di quella determinata persona oppure il rimpianto che avete per non avere fatto quella cosa che se aveste fatto chissà come sarebbe migliorata la vostra vita facciamolo rivivere un attimo e lasciamolo andare liberiamocene non pensiamoci più non pensiamoci mai più questo lasciare andare questo peso ci dà una fantastica energia ci libera ci libera richiudete gli occhi e fate un esercizio invece sul presente l'esercizio è di accettare il presente con tutte le difficoltà con tutti gli ostacoli che possiamo avere perché gli ostacoli fanno parte della natura delle cose fanno parte dell'ordine dell'inverso sempre ci sono gli ostacoli bisogna accettarli serenamente e se noi accettiamo ciò che è sfavorevole e contemporaneamente apprezziamo ciò che è favorevole della nostra vita anche questo ci aiuta a a non perdere energia per lamentarci non dobbiamo mai lamentarci qualunque gravità sia la cosa accettiamo ciò che è sfavorevole e contemporaneamente apprezziamo ciò che è favorevole della nostra vita anche questo ci aiuta a a non perdere energia per lamentarci non dobbiamo mai lamentarci qualunque gravità sia la cosa che ci perseguita in questo momento riconosciamo che 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 noi abbiamo delle responsabilità nelle difficoltà che ci che ci affliggono e pensiamo invece pensiamo invece con gratitudine a quello che abbiamo di positivo il terzo esercizio che chiudiamo gli occhi è di creare il futuro visualizzare il nostro scopo è importante avere uno scopo avere una meta visualizzarlo con con umiltà guardate che lo scopo non è non è illusione non è lo scopo di avere chissà quali ricchezze lo scopo deve essere qualche cosa di impegnativo ma ragionevole raggiungibile e pensiamoci con umiltà ma è con fiducia in noi stessi quello scopo lo possiamo raggiungere che che quell'azione giusta che noi dobbiamo fare la possiamo fare perché bisogna adesso possiamo riaprire gli occhi bisogna che le nostre azioni siano giuste e che cos'è un'azione giusta? un'azione giusta è un'azione che che porta il massimo benessere per noi e anche per gli altri noi non possiamo vivere senza gli altri se gli altri non stanno bene anche noi non stiamo bene per avere un'azione giusta bisogna avere i pensieri giusti e perché i pensieri siano giusti bisogna che la motivazione dei nostri pensieri sia giusta la motivazione che poi ci porta perché facciamo questa azione qual è il motivo profondo per cui vogliamo fare questa cosa pensiamo alla nostra motivazione e pensiamo alla nostra intenzione dobbiamo muoverci con delle intenzioni giuste e allora è probabile che avremo un grande successo un grande successo di riuscire a fare delle azioni giuste perché questo è il successo e quando le cose ci vanno bene non è che dobbiamo la nostra azione deve essere per forza fare tutto il possibile per mantenere le cose così perché le cose cambiano le cose cambiano naturalmente tutto cambia nell'ordine dell'universo tutto cambia il giorno è seguito da notte poi ti muovo dal giorno viene il caldo la stagione è calda qui la stagione è fredda vengono le gioie vengono i dolori talvolta il piacere diventa un peso una pena e spesso dalla sofferenza rinasce la gioia ed è sempre un cambiamento così un cambiamento costante tutti i giorni, tutti i mesi, tutti gli anni tutta la vita ci sono i forti che si indeboliscono ci sono i deboli che si rafforzano e questo vale anche a livello planetario a livello di società ci sono le società orientali che erano delle società molto molto spirituali che adesso sono affascinati da tutti i nostri giochi tecnologici le vedi giapponesi che andavano in giro sempre con la macchina fotografica a copiare tutte le cose che vedevano in occidente e poi le hanno fatte loro meglio di noi forse non lo so e stanno trasformando la loro cultura da una cultura spirituale ad una cultura molto più materiale e invece noi, da noi che abbiamo questa tradizione di cultura molto materiale no sempre più c'è una ricerca di di maestri spirituali tutto cambia non possiamo illuderci di poter arrestare questo continuo trasformarsi dell'universo dobbiamo adattarci dobbiamo entrare in questa trasformazione il nostro corpo cambia il nostro corpo cambia tutti i giorni la mucosa del nostro intestino nel volgere una settimana si rifà completamente non c'è più nessuna cellula di quelle che c'erano prima sono tutte cellule nuove lo stesso la nostra pelle cambia ci sembra di essere sempre noi stessi ma tutto cambia e allora noi dobbiamo inserirci in questo cambiamento e inserirsi con le relazioni giuste per il bene nostro e per il bene degli altri adesso cominciamo a a parlare un po' di cibo ma prima di parlare di cibo vorrei parlare di questo concetto questo concetto che è una specie di di bestemmia per la scienza moderna che è il concetto del ci dell'energia e che noi scienziati diciamo ma cos'è questo cos'è questa energia di cui parlano queste persone no? come si misura no? con quale amperometro no? con quale possiamo misurare questa energia si parla degli energie degli alimenti no? si dice addirittura dell'energia degli luoghi no? io sono sempre un po' triste perché l'energia che sento a Cascina Rosa è migliore di quella che sento in quest'aula no? e però dobbiamo venire in quest'aula perché siete in tanti no? e... quando parliamo di energia degli alimenti un modo per vederlo dal punto di vista occidentale è di pensare a quello che l'alimento causa quando lo introduciamo nell'organismo ma non vuol dire che causa no? totalmente gli alimenti inducono la formazione di subi gastrici gli enzimi per la digestione tutte queste cose qua no? come ci cambia? ci sono degli alimenti che li mangiamo e ci rinfrescano degli alimenti che mangiamo e ci riscaldano degli alimenti che ci rilassano degli alimenti che ci induriscono degli alimenti che ci intristiscono degli altri che ci fanno se ne mangiamo per esempio del cibo animale e beh il cibo animale tende a andare verso il basso le persone che mangiano cibo animale io quando faccio controviso delle persone guardo sempre i piedi guardo sempre la pianta di piedi e si vedono dei calli duri sotto la pianta di piedi nelle persone che mangiano tanto cibo animale se puoi fare il cibo animale c'è anche il formaggio stagianato non c'è nemmeno bisogno di guardarli i piedi basta sentire l'odore e ormai il mio naso è raffinato a lei piace il castelmagno oppure a lei proprio per il parmigiano e invece ci sono dei cibi che vanno più verso l'alto sono quelli di cibi fermentato il yogurt ma naturalmente il cibo è fermentato per eccellenza che va verso l'alto e l'alcol quando avete un bicchiere di vino non vi va alla testa non vi va ai piedi e quindi è una cosa molto diversa mangiare una bistecca o bere un bicchiere di vino ha degli effetti molto diversi sul nostro organismo e allora si dice ci sono delle energie diverse in questi cibi ci sono degli effetti di portare in profondità all'interno del nostro corpo di nuovo sono i grassi e le potiglie animali ci sono dei cibi invece che ci portano le cose verso l'esterno di nuovo sono l'alcol sono i grassi vegetali un signore è venuto da me con un problema di psoriasi no? l'ultima cosa che vi ho detto togli l'olio crudo l'olio crudo porta fuori degli effetti di portare in profondità all'interno del nostro corpo di nuovo sono i grassi e le potiglie animali ci sono dei cibi invece che ci portano le cose verso l'esterno di nuovo sono l'alcol sono i grassi vegetali un signore è venuto da me con un problema di psoriasi no? l'ultima cosa che gli ho detto è togli l'olio crudo l'olio crudo porta fuori ha un effetto di andare verso l'esterno c'è un ragazzo con la psoriasi quando gli ho detto di togliere l'olio crudo mi guarda e mi fa l'olio d'oliva? ma io lo bevo l'olio d'oliva e infatti si vede che lo vede ci sono gli elementi che riscaldano no? in pieno agosto al mare a luna e il pomeriggio no? l'ideale è mangiarsi un brasato, no? con polenta, si oppure le salamelle, no? questo tipo di pane, no? mentre invece quando fa freddo d'inverno, no? ci mangiamo delle belle spremute di lancio, no? la frutta che ci affredda il gelato è un pasticcio perché questo il gelato è talmente freddo che sconvolge tutto può causare anche del caldo teoricamente nella sua violenza il freddo ci toglie energia, no? danneggia i reni che nella filosofia orientale sono la sede proprio della nostra energia il caldo invece riesce molto più sul cuore se dobbiamo attivare qualche cosa dei processi metabolici allora prendiamo delle cose i germogli per esempio oppure i rabanelli per attivare il nostro metabolismo per attivare la nostra circolazione per togliere per aiutare a sciogliere quel grasso che si è depositato nella nostra cellulite anche le aree che sono utili a questo punto di vista di nuovo invece se vogliamo indurirla bene la nostra cellulite e ve ne facciamo calme i formaggi grassi è così non so chi di voi ha avuto l'esperienza di fare un orto l'esperienza di fare un orto è un'esperienza bellissima io ho un piccolissimo orto dove lavoro poche ore all'anno e però se voi guardate le verdure le diverse verdure che seminate vedete che sono delle differenze profondi sono delle verdure la cui crescita è verso il basso una carota per esempio e anche le foglie della carota che sono sopra sì sono molto diverse dalle foglie di un'insalata per esempio sono piccole sono dure sono molto profumate molto aromatiche se guardate invece la pianta del zucchino la pianta del zucchino è una cosa incredibile raccogli gli zucchini oggi domani torni nell'orto ci sono già di nuovo gli zucchini no? una grande espansione il pomodoro il pomodoro è una pianta di una generosità se volete clamorosa infatti c'è sempre qualcuno che vuole regalarvi dei pomodori no? perché ah sì sì perché non ce la fa a mangiare tutti i pomodori che ha messo in quelle tre piante nel suo orto la voce 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 e guardate un'insalata no? che va verso l'alto delicata e così via no? guardate un cavolo una verza no? che anche lui va verso l'alto per un po' no? ma quando nevica poi della voce la voce la voce rimane delle foglie un po' malcine no? il nucleosismo è ancora buono la parte più interna eh la parte più bianca ma il nucleo invece sotto la neve no? è potente come se l'avesse addirittura rinvigorita questa cosa sola dura tosta no? bellissima croccante sono caratteristiche diverse di queste piante e potete immaginare che queste piante hanno degli effetti diversi sul nostro corpo se ne mangiamo un'insalata magari ci rammogliamo un pochettino se mangiamo una verza ci tonifichiamo ma è bene ogni tanto è bene tonificarci ogni tanto invece è bene rilassarci e vediamo un po' che cosa ho messo nelle diapositive che probabilmente le avete già viste perché le ho recuperate ho ripreso l'immagine eh di cui abbiamo parlato nella nella conferenza sul tau della prevenzione questa immagine che rappresenta un viandante o un contadino eh cinese che ha sulle spalle una canna di bambù che è questa e alla canna di bambù sulle spalle sono appesi due setti che sono il secchio dello yin e il secchio dello yang e le due grandi energie l'energia espansiva eh l'energia dell'insalata l'energia del pomodoro eh l'energia dello zucchino e l'energia contraente eh l'energia della carota eh l'energia rinfrescante l'energia l'energia è riscaldante e fra queste due energie ci sono un sacco di interazioni l'una passa nell'altra eh un estremo di energia yin eh rilassante espansiva porta ad una concentrazione di uno yang un estremo yang porta poi a un estremo yin richiede dello yang un estremo yang richiede dello yin e vedete nelle nello yin c'è sempre un nucleo yang nello yang c'è sempre un nucleo yin gli animali sono yang con energia con movimento con grande attività i vegetali sono yin non si muovono eh o si muovono molto poco con i movimenti gli uomini gli uomini sono yang gli uomini sono attivi forti no? lavoratori le donne sono yin no? sono dolci più emissive eh fanno l'one eh ma che sa però nelle donne c'è un nucleo yang c'è un nucleo forte dentro le donne sono più forti degli uomini dentro gli uomini hanno un nucleo yin un nucleo debole eh ebbene quando c'è un buon equilibrio fra lo yin e lo yang allora questo viandante può incamminarsi per la via per la strada il tao è la via questo è il senso del di questo splendido eh pittogramma e anche i cibi possono essere più o meno yin o più o meno yang sapete in tutti i popoli del mondo si mangiano cereali e legumi eh i cereali sono un pochettino più yang questo è il simbolo dello yang tipicamente no da noi si mangia la pasta e i fagioli in oriente si mangia il riso con la soia quante volte mi avete sentito fare questi discorsi noi in africa si mangia il cous cous il senore di grano con i ceci no in 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 messico si mangia la tortiglia di mais con i fagioli neri e in africa si mangia il milio con le arachidi no cereali e legumi cereali e legumi cereali e legumi eh pittissime temperature che concentrano molto 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 no come l'hamburger cotto alla piastra no e lì non c'è le patate pere pomodori melone che tenga bisogna per forza bere la coca cola perché altrimenti non si riesce a compensare questo questo hamburger e allora gli alimenti di origine animale abbiamo detto sono yang eh concentrano e però eh possono essere tanto yang come i salumi o i formaggi salati il parmigiano anche le uova sono molto yang eh le uova sono piccole concentrate no rispetto le uova di pesce il caviale è estremamente yang in russia sono costretti a mangiarlo con la vodka che è estremamente yang le carni rosse le carni sono yang il sangue yang anche non mangerai la carne nel deserto eh nel deserto Dio gli dava la manna che era un prodotto vegetale non la carne da mangiare no poi questi si stufavano ogni tanto no e perché volevano mangiare la carne facevano il eh il gli idoli no con il bue d'oro però non andava tanto bene dopo le carni bianche sono yang ma un po' meno ah un po' meno yang il pesce è sempre relativamente yang ma molto meno e il pesce è freddo la carne rossa è calda il pesce è un animale sempre freddo eh il freddo è yin il caldo è yang il sole è yang la notte è yin gli elementi più yin sono lo zucchero sono i dolci i dolci di pasticceria la frutta yin ma naturalmente non tutta la frutta è tutta yin uguale la frutta tropicale che cresce in ambiente molto yang e deve bilanciare questo yang è molto yin la frutta tropicale le banane sono molto yin l'ananas è molto yin l'ananas è molto yin sono tutti alimenti rinfrescanti quindi mangiate l'ananas natale sotto la neve non è una cosa che vi freddo assolutamente il il latte è un alimento piuttosto yin i formaggi freschi le verdure le verdure sono meno yin della frutta però certe verdure sono più yin di certe frutta per esempio i frutti di bosco che sono piccoli concentrati no? sono più yang di molte verdure certamente un frutto di bosco è più yang di un'insalata e più un pomodoro è fra le frutti il pomodoro è un frutto in realtà no? è fra i frutti più yin quindi i frutti yin sono quelli che non hanno un centro che hanno tanti semi dispersi dentro come kiwi per esempio il kiwi è molto yin il pomodoro la melanzana sono alimenti molto yin poi ci sono i semi i semi sono yin ma non così tanto yin in particolare i legumi i legumi sono dei semi già appena appena un po' più yin dei cereali i cereali sono gli alimenti che stanno al centro proprio che separano gli alimenti yin dagli elementi yang e anche all'interno dei cereali i vari tipi di cereali hanno delle caratteristiche più o meno yin più o meno yang per esempio nella tradizione orientale il miglio i crano saraceno sono considerati yang all'interno sempre dei cereali che sono molti equilibrati il mais è considerato yin il mais è più grosso il cereale con il picco più grosso il miglio con il picco più piccolo il riso tondo la forma rotonda yang il riso lungo è più yin e voi direte ma che palle questa roba qua di yin e yang ma come mai cosa gli è venuta in mente a questi orientali di classificare i cereali così e che gli dicono ah d'estate è meglio mangiare il riso lungo perché è un po' più yin inverno è meglio mangiare il riso tondo perché è un po' più yang ma sarà vero questa roba qua ebbene guardiamo adesso al microscopio l'ambito di questi cereali guardate per esempio l'amido del riso queste sono fotografie microscopio di granevi di amido ingranditi mille volte guardate l'amido del mais e guardate l'amido di una cosa molto più yin che sono le patate e beh come facevano questi cinesi di due o tre mila anni fa a sapere com'era l'amido al microscopio e non lo sapevano certamente però avevano capito che c'è una differenza tra i vari cereali e oggi con la scienza moderna riusciamo a scoprire qual è questa differenza con la fisica per esempio con queste analisi fisiche ma anche con delle analisi chimiche ci sono due grandi classi di amidi uno è l'amilosio vediamo che sono dei polimeri del glucosio il glucosio è questa molecola qua vedete questa questi anelli sono tanti anelli è una molecola fatta di sei atomi di carbonio vedete uno due tre quattro cinque sei e il il e nella nella milosio ci sono delle lunghissime catene di atomi di carbonio che sono tutte torciliate su se stessi a fare quei graniglini di amido che abbiamo visto prima no? di migliaia decine di migliaia di molecole di glucosio e per digerire l'amido e noi stacchiamo abbiamo degli enzimi che staccano uno dall'altro queste molecole di glucosio che però più l'amido è compatto e più il granulino è piccolo no? più è lento questa digestione dell'amido c'è un altro tipo di amido invece che ha questa forma ramificata vedete qua c'è un'altra figura si chiama amilopectina eh che ha e sono sempre delle questi anelli queste molecole di glucosio attaccate una all'altra come vedete si staccano delle catene laterali questa è una forma di una molecola di amilopectina l'amilopectina è più difficile da da compattare no? perché non è soltanto una catena ha tutte queste ramificazioni no? non riesci tanto a mettere assieme in una pallina piccola piccola però offre agli enzimi digestivi offre tutte queste ha tanti punti dove gli enzimi digestivi possono attaccare si viene digerita molto più in fretta viene smontata molto più in fretta quando noi mangiamo il mais la glicemia sale più rapidamente nel sangue di quando mangiamo il riso o quando mangiamo il miglio perché gli amidi sono diversi quando mangiamo il riso tondo la glicemia sale più lentamente che quando mangiamo il riso lungo c'è un'eccezione ci sono sempre le eccezioni i basmati è un riso lungo però è ricco di amilosio e quindi anche la chimica ci permette di capire qualcosa in questa filosofia orientale anche le bevande le possiamo classificare in molto yin i cuori più c'è alcol più è yin ma anche i succhi di frutta sapete la frutta è yin i succhi di frutta sono ancora più yin della frutta poi se nei succhi di frutta ci mettete lo zucchero perché gran parte dei succhi di frutta commerciale contengono zucchero allora è molto yin abbiamo visto che anche lo yogurt è yin questi yogurt da bere che vendono adesso con dentro lo sciroppo di glucosio fruttosio sono estremamente yin se voi bevete lo yogurt da bere al mattino andrete in ufficio tutti belli molli insomma se invece bevete un un tè bancia un tè di tre anni no? non vi fa questo effetto se voi prendete un ginseng no? questo lì il tè verde sta qui vedi è il tè e yin è il tè verde anche il tè bancia è un tè verde ma è un tè verde invecchiato e ci sono tre cose che ianghizzano uno è il calore la cottura ianghizza quindi se cucinate le zucchine bere che vendono adesso con dentro lo sciroppo di glucosio fruttosio sono estremamente yin se voi bevete lo yogurt da bere al mattino no? andrete in ufficio no? per le molli insomma se invece bevete un 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 tè bancia un tè di tre anni no? non vi fa questo effetto il se voi prendete un ginseng no? questo vi no? il tè verde il tè verde sta qui vedi è il tè e yin è il tè verde anche il tè bancia è un tè verde ma è un tè verde invecchiato e ci sono tre cose che ianghizzano uno uno è il calore la cottura la pianghezza quindi se cucinate le zucchine no? fatele bollite no? fatele al forno fatele saltate in padella no? vivace no? che gli diano tono no? così non si follate mangiando la zucchina vediamo sempre le zucchine bollite e i nostri malati il 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 calore la pressione la pressione la pressione glianghizza no? la cottura in vento la pressione è molto molto indicata in particolare l'inverno e il tempo il tempo glianghizza più è lungo viene più è lunga la cottura più è lunga la pressione più è più più l'invecchiamento di certi prodotti questo è che causa yang li trasforma in yang il tè di tre anni no? è yanghizzato dal tempo adesso vediamoli un po' tutti assieme in un'unica classificazione l'estremo yang sali salumi formaggi salati la carne rossa le uova l'uovo è una delle cose più concentrate del mondo nasce poi tutto un animale i bambini sono più yangh dei grandi perché sono molto più concentrati i bambini quando un bambino fa il capriccio il capriccio è una cosa estremamente yangh no? esprime questa cosa qua e datemi un succo di frutta datemi una mela no? che si rilassa le signore che hanno il marito un po' malmostoso che si arrabbe facilmente no? al mattino no? portate già a letto un succo d'arancio che rilassa poi datemi anche qualcosa di yangh che ritenga il succo però insomma quello lo dico il succo d'arancio non tanto per il bene del vostro marito per il bene del vostro e vedete al centro verso l'equilibrio che è questa linea rossa verticale ci sono i cereali integrali e i legumi tutti i popoli del mondo hanno basato la loro alimentazione quotidiana su cereali e legumi perché sono gli alimenti più equilibrati se noi mangiamo alimenti molto yangh ci viene voglia proprio di mangiare delle cose molto yin no? tipicamente l'uomo che mangia carne che beve vino e anche la donna che mangia carne che però poi vuole la torta santo onore alla fine quando andate in trattoria la domenica si comincia con i salumi molto yangh poi ci sono tutti gli arrosti tutte quelle cose lì e alla fine ci deve essere la torta con la panna con la crema e dopo ci deve essere il limoncello che è estremamente yin per bilanciare tutta quella roba il problema è che questo bilanciamento nel nostro corpo non è che faccia degli effetti così positivi non è così facile da gestire l'equilibrio fra gli estremi è per questo che a Cascina Rosa noi facciamo cereali integrali, legumi e facciamo anche un po' di cereali raffinati io lo sposterei un po' più in là i cereali raffinati rispetto a questa diapositiva usiamo i semi oleaginosi usiamo anche le verdure usiamo anche il pesce qualche volta ci estendiamo da qui a qui anche la frutta la usiamo facciamo anche i dolci senza zucchero come i biscottini che abbiamo qui che sono già piuttosto yin però non 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 bisogna sempre pensare di i super alcolici si sono estremamente yin si i licuori sono qua i mischi tutti i super alcolici sono yin sono yin certo e i super alcolici gli amari i licuori zuccherati sono ancora più yin no? l'olio sta qui l'olio crudo e yin se usate l'olio per cucinare viene yangtizzato un po' dalla cottura noi abbiamo queste cotture le cotture possono essere più o meno yin non so se c'è la diapositiva sulle cotture aspetta un attimo si per esempio il cibo crudo yin e il cibo cotto più yang se noi cuociamo ad alta temperatura al forno yangtizziamo molto se friggiamo yangtizziamo molto naturalmente se se cuociamo al forno una carne che è già yang la rendiamo ancora più yang un pesce lo rendiamo ancora più yang ma non sarà così estremo la cottura pressione è anche yang la bollitura è piuttosto dalla parte dello yin la scottatura quella che vi consiglio a volte di fare il verde scottato di prendere l'insalata di buttarla nell'acqua bollente tirarla fuori subito che la yangtizza appena appena un pochettino rispetto alla forza yin dell'insalata e però è comunque la cottura ancora yin la cottura vapore è anche molto yin no? mettetemi la zucchina a vapore mettetemi la carota a vapore e e poi la noi facciamo gli insalatini con la verdura pressata noi cerchiamo di yangtizzare senza calore semplicemente comprimendola la verdura e mettiamo un poco di sale per yangtizzarla e anche di questo ne abbiamo già parlato più volte ne parlo più volte perché questa è la nostra competenza il nostro lavoro e questo enorme lavoro che abbiamo fatto di revisione di tutti gli studi scientifici su alimentazione e cancro questo lavoro che ha coinvolto cento ricercatori per tre anni per fare un sacco di statistiche e le conclusioni sono riassunte in questa diapositiva nella quale io non erano messi in questo ordine nel documento originale ho cambiato solo l'ordine delle raccomandazioni finali di questo comitato di saggi che ha letto tutto il nostro lavoro di rivalutazione degli studi è giunto che queste cose si possono e si devono raccomandare per la prevenzione dei tumori e dice ci sono delle parole che dicono evitare e delle parole che dicono limitare c'è una grande differenza tra evitare e limitare evitare le bevande zuccherate cioè evitare lo yin estremo limitare le bevande alcoliche che è molto yin però un po' si possono avere per chi lo desidera non le raccomandiamo però ogni tanto un buon bicchier di vino è una cosa limitare i cibi ad alta densità caloriche i cibi ad alta densità caloriche sono quelli molto ricchi di zucchero e grassi sono le merendine dei bambini sono i quattro salati in padella sono i cibi pronti da mettere nel forno microonde che dice si possono anche mangiare ma la raccomandazione è di limitarli e dall'altra parte dice e cosa c'è da evitare? lo yin estremo che sono le carni conservate i cibi limitati in sale i cibi conservati sotto sale questo vuole dire anche implicitamente non ci sono delle raccomandazioni sui latticini in questo QCRF perché gli studi sui latticini non sono chiari in rapporto al cancro ma i cibi conservati sotto sale i cibi molto salati sono per esempio i formaggi conservati il parmigiano è estremamente salato limitare le carni rosse e su cosa dobbiamo basare la nostra alimentazione quotidiana? prevalentemente su una grande varietà di cereali non industrialmente raffinati di legumi di verdure e frutta questa zona l'alimentazione quotidiana è il quotidiano è il nostro cibo quotidiano che fa la nostra salute non è il cibo eccezionale non possiamo mangiare di tutto non è una volta ogni tanto ma è tutti i giorni che dobbiamo mangiare questo che risuovano? sette dieci non c'è mai un grande tempo per finire le cose sapete i nostri organi si possono anche loro classificare in termini di yin e di yang poi qua ci sono delle differenze tra la macrobiotica e la medicina tradizionale cinese se ci sono degli esperti di medicina tradizionale cinese sentiranno delle cose un po' non si orienteranno tanto c'è questo bellissimo libro che è il libro di Carlo Guglielmo si chiama il grande libro dell'eco dieta edizioni mediterlanee e l'ultimo capitolo di questo libro è proprio una discussione del rapporto tra la filosofia macrobiotica e la filosofia della medicina tradizionale cinese è molto interessante, difficili, ci sono concetti anche molto difficili e veramente per chi vuole approfondire questi argomenti è certamente il libro migliore che c'è perché è scritto da una persona competente di medicina, competente di biologia e però che è un grande maestro della macrobiotica e allora è scritto in un linguaggio che è comprensibile anche alle persone normali come noi sapete, vi racconto sempre questo episodio di quando andavo alla sala con questo collega medico tibetano e c'erano questi bellissimi campi di sesamo che il sesamo fa un fiore giallo, quindi dà tutto questo colore giallo alla campagna e lui mi dice, vedi il sesamo noi lo usiamo per la malattia delle ossa nella tradizionale medicina tibetana e io dico, certo è certamente richissimo di calcio, l'alimento più ricco di calcio che c'è, non mi sembra molto logico no, perché il sesamo è caldo e umido mentre le ossa sono la sede del vento che è freddo e secco allora per contrastare la degenerazione delle ossa serve il calcio lungo e questo mi ha fatto capire che ci sono due strade della conoscenza probabilmente ce ne sono di più che due ma due sono quelle che io timidamente ho cercato di seguire e queste due strade di conoscenza sembrano estremamente divergenti i punti di partenza sono molto molto lontani ma i punti di arrivo poi sono gli stessi e il... avete visto i cereali, no? la struttura dei cereali, la milosia e la milobectina perché tutto il mondo è è visibile in termini di Iene e di Yang e... prendetela questa... per chi è nuovo a questi discorsi prendetela come un'opportunità un'opportunità per aumentare la flessibilità della nostra mente e... poi la medicina tradizionale cinese e il... e la macrobiotica, no? vanno poi nel dettaglio anche per... ehm... per... applicare questi concetti anche alla medicina ma il concetto base è che dobbiamo avere una grande varietà nella nostra alimentazione per nutrire il fuoco cioè per nutrire il cuore e l'intestino tenue per nutrire la terra c'è la milza e il pancreas e lo stomaco per nutrire il metallo i polmoni, l'intestino crasso, la pelle per nutrire l'acqua i reni, le ghiandole surrenali, la vescica, gli organi sessuali e per nutrire il legno il fegato, l'acolicisti e voi sapete l'acqua dà energia al legno, nutre il legno il legno nutre il fuoco il fuoco produce la cenere, nutre la terra, no? si fa da un'estrema dispersione di energia una grande concentrazione questa concentrazione si concentra fino a un estremo yang del metallo che poi si scioglie nello yin dell'acqua e come facciamo a nutrire il fuoco, la terra, il metallo, l'acqua, il legno? beh, possiamo ragionare con tante cose ma stasera ci invitiamo ai cereali e ai legumi che sono per nutrire le terre dobbiamo mangiare il miglio per aiutare il nostro pancreas dobbiamo mangiare il miglio a chi avete andiamo da mangiare il miglio e i ceci anche per per nutrire il polmone intestino crasso che corrisponde al metallo ma molto bene il riso il riso e la soia i tipici alimenti dell'estremo oriente e per nutrire l'acqua i reni il grano seraceno la soia rossa gli azuchi per nutrire il legno il nostro fegato vanno bene le lenticchie il grano, l'orozo, il farro sono gli elementi che ci danno forza il anche le verdure si possono classificare in questo modo per nutrire uno piuttosto che l'altro ma se il nostro fegato è troppo infiammato è troppo forte dobbiamo raffreddarlo un pochettino dobbiamo togliergli un po' di energia se abbiamo un'epatite acuta meglio dargli del riso piuttosto che dell'ordo del farro perché il riso l'acqua toglie energia al legno e l'acqua dà energia al legno ma il metallo toglie energia al legno e così anche se abbiamo una pancreatite acuta non andiamo a nutrire troppo il pancreas ma diamogli piuttosto del legno ci sono tutte queste relazioni che la medicina tradizionale cinese utilizza e la utilizza con tantissime sfumature non è una cosa così meccanica è interessante tenerlo presente il se noi prendiamo degli alimenti molto yin a volte vanno a stimolare degli organi yang se per esempio quando per esempio prendiamo il caffè che effetto fa il caffè? cosa muove il caffè? nel nostro corpo? il cuore il cuore il cuore il cuore non è un yang il cuore tenso ma muove anche la parte più yang dell'intestino la parte finale dell'intestino il sigma il retto beviamo il caffè beviamo il caffè per andare a fare la cacca muove l'intestino sigarette e caffè al mattino il ma se noi beviamo troppo caffè il nostro cuore non sarà tonificato ma sarà spaventato ci vengono le aritmie no? se noi beviamo troppo caffè il nostro intestino non sarà ben funzionante no? ma sarà sfiancato da questa eh perderà tono se noi mangiamo una bistecca yang andiamo a stimolare degli organi yin per esempio la parte dello stomaco la parte alta dello stomaco eh che produce i succhi gastrici no? e va bene ovviamente e va a produrre i succhi gastrici per digerire la bistecca ma se mangiamo tante bistecche e c'è la luce eh avrà un effetto anche di sfiancare questo stomaco no? il tipicamente agirà anche agisce anche la carne su un organo yin che è la prima parte dell'intestino la parte destra dell'intestino eh e lì causerà però troppe bistecche causeranno l'alcolite le proteine animali sono un fattore che aumenta l'infiammazione dell'intestino come vi ho detto tante volte e poi ragionare in termini di yin e di yang che ci aiuta no? no? quindi mangio quello che voglio non devo mica curarmi no? ma maggior parte di voi probabilmente si sentono ragionevolmente in salute ma maggior parte di noi ci sentiamo ragionevolmente in salute però allora vi ripropongo l'esame di coscienza da fare per sapere se siamo in salute oppure non siamo in salute non so che l'avete già sentito ma io ci ho messo tanti tempi ho dovuto sentirlo tante volte per impateronirmene il primo principio della salute il primo criterio della salute è non essere mai stanti se stiamo stanchi senza ragione se hai spaccato legno se hai lavorato tutto il giorno in campagna no? è certo che sei stanco ed è una stanchezza sana no? ma ci sono persone che sono stanche al mattino quando si alza ci sono persone che nel loro lavoro che non comporta attività fisica però si stancano tanto e allora già ci viene qualche dubbio se siamo proprio in salute non essere mai stanti avere buon appetito avere buon appetito non vuol dire solo appetito di cibo vuol dire appetito di tutto vuol dire curiosità intellettuale eh? vuol dire che non vi accontentate di quel cibo televisivo no? ma volete andare a fondo delle questioni eh? vorrei dire avere un senso critico eh? ma è l'appetito di tutto l'appetito sessuale no? l'appetito eh nei confronti dei di di vedere le cose del mondo l'appetito di vedere la bellezza no? di vedere le opere d'arte no? queste sono cose che eh eh se il nostro appetito si limita a guardare la televisione dopo cena e siamo un po' malati eh? non è una condizione di tutto il che non è una scelta eh l'appetito deve essere un appetito attivo di scegliere le cose avere buon sonno avere buon sonno significante l'ha letto la sera con il libro da leggere non leggi le tre righe no? e se non ti cade il ribo sul naso si pronto allora ti svegli al mattino allora devi svegliarti senza incubi con i suoni si ma senza incubi non vuol dire svegliarsi alle due di notte non riuscire per addormentarsi essere in buona salute vuol dire avere buona memoria ma non è la memoria di ricordare i numeri del telefono no? è la memoria di è la memoria del corpo anche è la memoria di ricordarci di che cosa ci hai fatto bene che cosa ci hai fatto male il corpo ha una memoria indipendentemente dalla nostra testa chi va a sciare lo sa benissimo anche per tutta l'estate e l'altuna non va sciare poi va a sciare no? e gli sembra di avere sempre sciato cioè le gambe si ricordano perfettamente come la bicicletta no? i movimenti da fare queste sono cose che però bisogna stare attenti la buona memoria è la memoria che non ripete sempre se stessa non è ripetitiva devi ricordarti per migliorarti non per rifare sempre le stesse cose non sei mai stanchi avere buon appetito avere buon appetito buoni appetiti avere buon sonno avere buona memoria avere buon umore poi bisogna sorridere bisogna avere sempre il sorriso sulle labbra anche quando c'è qualcosa che vi mette un po' di cattivo umore sforzatevi di comunque non esprimerlo con gli angoli della bocca che vanno in giù sforzatevi di tenere un po' su le labbra perché questo ha un fantastico effetto contagioso se voi avete il sorriso le persone di fronte a voi avranno un sorriso ma siccome è contagioso vi verrà il sorriso naturale per cui è veramente un circolo virtuoso il cattivo umore vuole dire soffrire di quel cibo spirituale che sono i rancori che sono i rimpianti che sono le manchevolezze di cui parlavamo all'inizio ripeghiamoci del passato e concentriamoci sul ringraziare per il nostro presente avere una buona flessibilità avere una buona agilità agilità del corpo ma soprattutto agilità della mente non rimaniamo fissi nei nelle nostre convinzioni no? io sono macrobiotico e quindi mangio solo cereali e legumi tutti i giorni dell'anno no? no? e rimastico 150 volte ogni boccone eh? e se mi offrono un'insalata di pomodoro a ferragosto dico ah vai il diavolo eh? oppure no? eh dobbiamo dobbiamo aprirci a delle altre strade di conoscenza se siamo dei chimici degli scienziati dei fisici dei medici che credono anche loro di essere degli scienziati un po' e cerchiamo di di avere perlomeno una strada letteraria e filologica nella nostra vita no? di non dimenticare che esiste lo spirito anche se il nostro la nostra cultura è della materia e questa è la flessibilità ed è il sesto criterio della salute e il settimo criterio della salute chi se lo ricorda? la giustizia la gratitudine questo sentimento di gratitudine nei confronti del mondo nei confronti di di chi ci ha messi al mondo nei confronti dei nostri figli che ci hanno insegnato tanto che se non ci fosse stato loro che stanno nei confronti dei nostri amici nei confronti dei nostri maestri anche nei confronti di di quelli che ci hanno posto degli ostacoli nella nostra vita perché ci hanno costretto a superare quegli ostacoli possiamo avere gratitudine anche nel e la gratitudine nei confronti dell'ordine dell'universo che ha delle cose positive delle cose negative dobbiamo avere un senso di gratitudine e perché gli ostacoli si fanno crescere se non avessimo gli ostacoli no? rischeremmo di rambullirci e la giustizia la giustizia è mettersi nell'ordine dell'universo la giustizia è e comunque la consapevolezza abbiamo parlato prima delle azioni giuste dei pensieri giusti che hanno due basi pensieri giusti no? sono le motivazioni giuste per cui noi vogliamo fare quelle azioni e la visione giusta cioè la finalità di quelle azioni quelle azioni deve aumentare il benessere mio e degli altri ogni nostra azione deve avere questo scopo e la via della macrobiotica è una via per metterci in questa direzione delle azioni giuste la giustizia il settimo criterio della salute senza la giustizia senza senza la salute spirituale che ci guida in queste azioni giuste non possiamo dire di essere sani e potremo anche mangiare macrobiotico ma senza la giustizia non saremo sani grazie grazie grazie